Momenti di paura la scorsa notte in un'abitazione di Teolo in provincia di Padova a causa di un principio d'incendio. I pompieri arrivati da Abano Terme hanno spento le fiamme divampate nell'ingresso, evitando il coinvolgimento di tutta l'abitazione. Bruciati alcuni immobili che si trovavano in ingresso. Nelle prime fasi dell'incendio il proprietario si è scottato ad una mano ed è stato medicato sul posto dai sanitari del SUEM. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta.